bella rega ben ritornati qua sul mio canale sono Assergy come vedete siamo qua oggi con Joe nella Chubox Challenge ciao 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 ora lui inizia il video bene da che stiamo facendo un nuovo video che mi ha stato per molti box challenge che ci si aprirà le due casse dopo che quelle due armi giocherebbe tutta la partita allora praticamente noi inizieremo facendo due rituali e praticamente dopo io se riesco ad avere la gabbo il gamma comunque se vedete male che questo video praticamente lo trasporterò su youtube ora non ammazzare nessuno ricordati non ammazzare nessuno sta laggando eh vabbè all'inizio lagga sempre comunque raga se vedete male è perchè stiamo streammando su twitch raga sta laggando anche perchè pensate che io sono lost e sta laggando pensate lo schifo questo di connessione che abbiamo ok ok vabbiamo fare il ritual la penna apro la porta eh si 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 fossi arrivato cazzo sta laggando io non sono riuscito ad arrivarci perchè stavo laggando cioè pensate io sono lost e sto laggando non ho neanche uno ti presenta la merda questo cazzo ci devi aprire con la porta di manga ora prendi quella puttanella di bestia e vai ad aprire dove vai? nel cazzo sei purtro no non mi ricordo cos'è che devo fare niente devi fare un cazzo ok devi andare giù perchè io ormai ho sprecato quindi dovremmo lasciate soffrire il è una merda ok è una puttana è una barzelletta ok comunque devi prendere sta minchia di bestia ok devi prendere sta minchia di bestia e attivare sia questo che poi questo quello lì quello lì quel generatore dai cazzo lì ok 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 forse vedete passeranno perchè non riesco a fare niente sta laggando eh passiamo round ma cazzo usala ehm ho paura di dare perchè se lagga troppo non ce la faccio ho fatto fatica muovermi adesso e quindi provaci tanto se per se morranno ce n'è un'altra quindi allora è qua e dall'altra parte è dietro qua ma figa no ma anche se non laggava secondo me non capivi un cazzo eh è qua 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 oh cazzo è incredibile secondo me anche se non laggava non capivi dove cazzo era ora la prendiamo e andiamo sopra prima ammazzo prima ammazzo cioè ammazza sti zombie vi lascia le due occhio 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 ok basta basta non ammazzarli cazzo tasto 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 eh sì eh non è il last in realtà perché c'erano 2 ok aspettate che devo tirarne su mi giro su una di barriera che almeno dopo mi rimane con solo 3 per un bigliettino da visita questo era il primo video di zombie cioè sono i primi video di zombie quindi il mio è tipo il secondo perché ho fatto già una live su zombie ma anche io no il video intendo video 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 primo sì io mi siamo andati a morire al quarto round sulla cosa del poliziotto perché mi siamo incattati tutti e due stavano andando all'altra gli siamo incastrati cioè visto che lì è un posto molto brutto per girare ok il primo rituale è finito eeeh a me neanche una andiamo qua dobbiamo passare il round quindi ammazzali tu così arriviamo a mille punti ciascuno eeeh prima aspetta ma che sono? ma non lo so tira su ste barriere che devi fare tu il cosa comunque facciamo il quello la con la canal facciamo avrò la prima porta l'hai svegliata che mi sto fermo qua è una fattica infallibile tu stai fermo allora nei primi episodi credo se ce la facciamo io spero che ce la facciamo ma sono qua sono qua sono qua sono qua sono qua si va così fai anche tu un paio di punti e vai allora tu che aggando che aggando io faccio la prima parte vai che ci fa la oh che ce la fa no perchè no era proprio cioè non stavo laggando è che ci metto un po' per far capire che è finito il cazzone di round io non apro al massimo non apro la la cosa la fenditura non la apro ok l'ho aperta l'ho aperta l'ho aperta l'ho aperta l'ho aperta l'ho aperta ah scusa sei scemo non ho visto eh vabbè un chile talura eh cioè ma vaffanculo che sfiga di merda che palla ne ho più presto a fare questa merda di rituali che palla che palla si quella del poliziotto cazzo ma ce la fai ammazza ste merda guarda quanto odio passare i round cazzo orca puto ma muori eh ammazziamo un po' di zombie che dopo ti cadono dal soffitto e muori come è successo a me ieri stavo per morire che dopo c'è morti lo stesso però prima stavo per morire per per una merda che mi ha caduto dal soffitto oh che cazzo oh ma che cazzo č ancora cos'č 7 cose ma che che cazzo ma che ti morisse la famiglia che stai di cazzo oh io ho una quattro ne ammazzo uno sì mi va a fare tu ok vai aspetta una una un uomo ma andiamo eh sai quello che devi fare sai quello che devi fare la finisci cazzo fal ma che palle ci danno tutti i bonus appena minchia figa io mi tengo sti zombie del cazzo oh no oh no grazie signores no è morto hai ammazzato un tipo no vabbè ce n'è qua vabbè ammazzo questo qua va andiamo svegliati però se rimuoriamo ti giuro quitto figa da cosa da dal mondo oh cerchiamo di non incastrarci ma ce la fa tu stai di lì io sto di là ah si guarda il tiro che sto facendo io non incastrarmi no no sono tutto rosso no 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 sono rosso non lo so scusa ma sono rosso tanto ok adesso sono vivo no si che culo alla fine alla fine meno male ti giuro mi sta salendo il gargarozzo aspetta un attimo il morgo il morgo è il morgo è non ammazzarlo non ammazzarlo mamma mia che skill che ho no ragazzi ammazziamolo con la pistola che tanto cazzo va giù non è non è non è un'altra volta un'altra volta tra l'altro la testa di che rumori della del mio pad ma sto usando il bluietti e quindi si sentono ok apro qua ma il pezzo il manquari no mi sono chiuso devo andare giù no se muori se muori c'è uno stronzo non è vero non è vero no no tua madre speriamo che me l'abbiamo dov'è è qua sotto morguai ma perchè quello qua lo stai ma che cazzo ma vuoi stare zitto non gli vanno giù le teste ma io che cazzo dov'è la cazzo guarda lo sapevo io apro tutto dopo su da te su da te su da te su da te ok ok su da te ah sia raga non possiamo prendere neanche le armi dato che è la true box challenge è vero ti ho ricordato adesso perchè mi continuo a seguire difatti adesso qua da me l'ho ucciso gli ho ucciso una testa è meglio che vieni le ho ucciso una testa testa di cazzo le ho ucciso una testa